In una calda giornata di sole, un senzatetto è in piedi davanti a un cassonetto in cerca di qualcosa di interessante. Improvvisamente, un uomo passa di lì e lascia cadere il portafogli per terra. Il senzatetto vede tutto e corre fuori urlando ragazzo il suo portafoglio ha lasciato cadere i suoi soldi. Ma l'uomo non ascolta e continua a camminare. Ma l'uomo corre per paura di essere un ladro e apre la portiera della macchina per entrare. Il residente cerca di consegnare il portafoglio, ma finisce per rimanere con la mano incastrata nella porta che l'uomo chiude. Ma l'uomo spaventato mi chiede cosa vuole da me. L'uomo senza sapere cosa sta succedendo impiega molto tempo per aprire la porta. Oh mio Dio, le mie dita sono sparite, dice il ragazzo, contorcendosi. L'uomo dice che mi dispiace, stai bene? Va bene anche se mi sono fatto male alle mani. Mi dispiace, non è stato intenzionale. Il giovane voleva solo tornare, restituisci il portafoglio che hai lasciato cadere. Wow, non mi ero nemmeno accorto di essere caduto, dice l'uomo, prendendo il portafoglio dalla mano del ragazzo. Ragazzo grazie mille per averlo restituito grazie all'uomo che controlla i soldi nel suo portafoglio. Il senza tetto osserva e dice, amico, non hai un po' di soldi da darmi perché ho molta fame e non ho avuto niente da mangiare finora, potresti darmi qualche resto lì. L'uomo dice che ha qualcosa di meglio per te, aspetta un po' e aggiusterò una piccola cosa. Il nostro meglio del cibo, il ragazzo è felice. L'uomo esce dall'auto, chiude la portiera e prende dal portafogli degli spiccioli e un pezzo di carta insieme ai soldi e dice che questo gli cambierà la vita. Indignato il ragazzo dice come faranno questi soldi e questo pezzo di carta a cambiarmi la vita. Sì, cambierà la tua vita in meglio. Ragazzo, questa robaccia e questo ruolo cambieranno la mia vita. Non riesco nemmeno a comprare uno spiedino, sono così affamato ragazzo, non hai più soldi ragazzo, l'uomo prende i soldi e la carta rimette i soldi dentro la carta e dice che ci sono i consigli per diventare milionari e solo tu segui le istruzioni correttamente e tutto andrà bene. L'uomo restituisce i soldi e la carta al ragazzo e sale in macchina. Il ragazzo disamorato dice con così tanti soldi e tu mi dai quella merda che sei cattivo con un ragazzo e butta i soldi per terra con rabbia. Ragazzo, vai per me, farai bene se fai bene e segui semplicemente come ho detto. Ma il ragazzo molto arrabbiato prende una bottiglia d'acqua e tira un pugno all'uomo all'interno dell'auto e se ne va nervoso. Ma l'uomo esce dall'auto e richiama il ragazzo qui giovanotto. Se fai quello che ho detto sarai molto ricco. Ma il ragazzo scappa e dice che non voglio saperlo. In quel momento arriva un poliziotto e chiede, quel ragazzo ti ha aggredito? No, e niente di tutto questo è stato solo un malinteso. Sei sicuro ragazzo? Va tutto bene, dice l'uomo che sale in macchina. Il ragazzo corre lungo il marciapiede sotto un albero e guarda il foglio che ha in mano con i soldi e ancora non crede a quello che aveva detto l'uomo. Ma curioso, apre il foglio per vedere cosa c'è dentro. Milionario questo ragazzo è deluso. Io affamato che vuole cibo viene con questo pezzo di carta dice sorridendo e aprendo il foglio per vedere cosa c'è dentro. Quando apri il giornale, ti trovi di fronte alle istruzioni su come diventare milionario. La prima cosa con quei soldi investi in qualcosa di piccolo. Poi vendi quello che hai comprato e compra qualcosa di più grande. Rivendi di nuovo e invita a qualcosa di sempre più grande in modo da poter diventare una persona molto ricca. Fratello mio, è pazzesco con questi soldi, tu non hai questi soldi, io non compro niente. Si alza e cammina per la strada senza sapere cosa fare con i soldi. Entra in un mercato alla ricerca di cosa comprare. Quando cammina al mercato, trova qualcosa che può comprare con i soldi. Prendi il prodotto e portalo alla cassa. La ragazza del mercato lo saluta con il buongiorno. La saluta e dice che vuole prendere il prodotto, ma non sa se i soldi sono sufficienti per comprarlo. La ragazza gli chiede per cosa vuole quel prodotto. Quindi ragazza, con questo prodotto inizierò la mia prima attività. E questa è una buona fortuna. Non sono affari tuoi, dice la ragazza quando riceve i soldi. Prima di partire, le chiede un favore dicendole che tornerà per comprare più cose e se lei potrebbe risparmiare i soldi per lui per avere il resto. È giusto e un po' strano, ma te lo tengo, risponde la ragazza, tenendo i soldi in un posto strategico. Ragazza, grazie mille, non sommare i soldi, tornerò indietro e comprerò l'intera scatola. E ne esce tutto eccitato, spero che riesca a comprare l'intera scatola, penso che questa abbia un futuro, dice la ragazza, stupita dall'atteggiamento del ragazzo. Il ragazzo esce e vede persino un segnalatore e cerca di vendere il prodotto e ottiene buoni soldi più di quanto aveva pagato. E torna subito a comprare di più come ha detto. Vai nello stesso posto, prendi due prodotti e vai alla cassa. Ciao, sei tornato. Ragazza sono tornato sono riuscito a vendere e ora voglio comprare di più e ottenere quei soldi è molto importante per me voglio la stessa nota di cambio per favore. I tuoi soldi sono ben tenuti qui e tu glieli restituisci come resto. Grazie mille, signora, tornerò a comprare la scatola, la vedo ancora, dice e se ne va tutto eccitato. Al segnalatore di nuovo offre con fede in Dio che potrà vendere tutto. Quando vende torna immediatamente sul mercato per comprare di più. Molto eccitato perché ha abbastanza soldi per comprare la scatola chiusa. Prende la scatola e ringrazia Dio e torna all'insegna e continua le sue vendite molto eccitato. Wow sono riuscita a vendere tutto grazie mille mio Dio per avermi aiutato riuscirò a conquistare tutto ciò che voglio e uscirò dalle strade. Per strada un ragazzo con i soldi in mano chiede a Dio la saggezza per investire i suoi soldi in qualcosa di grande. In cosa posso investire per conquistare ciò che voglio, dice il ragazzo parlando tra sé e sé. E alzando lo sguardo si imbatte in un enorme edificio di fronte a lei. So già che comprerò la mia prima proprietà. Un uomo è in piedi sul marciapiede ed una donna entra dicendo che ci sono alcune persone che vogliono affittare i loro appartamenti e sarebbe disponibile ad incontrarle. Non so se ho tempo, ma dopo averci pensato, dice che può programmarlo. Arrangiato dice la donna e se ne va. Ma subito le chiede di tornare. Sì. Cosa ti serve? Volevo dirti una cosa da molto tempo. Voglio ringraziarti per essere stato con me in tutti questi anni e per avermi aiutato a costruire questa società immobiliare. E per aver creduto in me allora che ho comprato quella gelatina. In quel momento ho sempre saputo che saresti stato parte della mia vita. Ti ringrazio per avermi dato questa opportunità. Nel momento in cui ti ho visto al mercato ero sicuro che tutto sarebbe andato bene nella tua vita. Ma basta parlare. Mettiamoci al lavoro. Ti ringrazia e dice di se andiamo a lavorare ben vi appartamenti vai li puoi organizzare un incontro con lui. Un uomo è al telefono e dice che sta aspettando una persona nell'atrio dell'edificio. La donna arriva e lo saluta con un ardente buongiorno. La saluta e dice che è venuto a vedere alcuni appartamenti. Sì. Entriamo. Facciamo un incontro con il proprietario. Poi ci farà vedere tutto quello che abbiamo a disposizione. E i due si dirigono verso il portiere quando incontra un uomo che esce dall'edificio e si avvicina a loro con una bottiglia d'acqua in mano. Uomo sorpreso dici che sei qui. La donna interrompe la conversazione e dicendo questo il ragazzo interessato agli appartamenti presenta l'uomo al suo capo. Lui chi è l'acquirente? Dice il capo sorpreso. Fatti un favore e riordina la sala riunioni e io gli parlerò e saremo dentro. Sì, certo, dice la donna ed entra nell'edificio. Ha anche visto l'uomo che dice che sapevo chi eri tu e tira fuori una banconota da due dollari e un pezzo di carta e chiede te lo ricordi? Certo che mi ricordo, dice l'uomo. Amico, non hai idea di come sia cambiata la mia vita. Ho seguito tutti i passaggi che hai scritto qui e oggi possiedo questo agente immobiliare. Voglio solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me. Sono molto felice che tu abbia conquistato tutto questo e tu sia stata l'unica persona che ha seguito le mie orme. Voglio abbracciarti. I due si abbracciano e intanto l'uomo si congratula con lui. Poi l'uomo prende una bottiglia che ha in mano e dice questo e per scontare quel bagno che mi hai fatto l'ultima volta che ci siamo visti e gli getta dell'acqua addosso. Sorridendo dice che accetta il bagno perché ti ho bagnato da morire. Ma mettiamolo nel passato perché ti sono così grato amico mio. Sì, ma dai, dice l'uomo con un sorriso sulle labbra. Negoziamo per dare un'occhiata agli appartamenti e i due escono insieme ed entrano nell'edificio. Subito dopo, l'uomo appare davanti all'edificio. Grazie a Dio ho venduto gli appartamenti e ho messo sulla mia strada quest'uomo che ha fatto un buon lavoro e ha cambiato la mia vita. E se lo permetti, voglio cambiare la vita di molte persone con queste istruzioni che quell'uomo gentile mi ha dato. Grazie signore. Grazie a Dio.